appena terminata la nostra super mega stratosferica svendita totale quella che abbiamo fatto qui in negozio di due settimane noi siamo pronti con il black friday ma questa volta ascoltate bene non è solo friday anche saturday infatti si lo faremo per due giorni ma la novità qual è è che la faremo in contemporanea sito e negozio ho attivato tre fasce di sconto 10 15 e 25 per cento che potete raggiungere in base all'importo speso sia in negozio quindi sconto diretto alla cassa sia sul sito quindi sconto sotto al carrello inserendo tre codici che troverete qui sotto qui sopra a secondo di dove state guardando questo video ma comunque vi lascio il link del regolamento ma attenzione oltre al 10 15 e 25 per cento di sconto la cosa bella più bella qual è è che in base a quanto voi spenderete sia a negozio che sul sito noi vi rilascieremo subito a negozio in forma cartacea e sul sito in forma elettronica da riutilizzare per gli ordini online un buono sconto pari al così 50 per cento un buono sconto hai capito bene così pari al 50 per cento dell'importo speso da riutilizzare nel mese successivo quindi a dicembre per i regali di natale su un importo di almeno il doppio pari al codice sconto cosa vuol dire che se vieni al negozio oppure se fai un ordine online dal sito di 100 euro ascolta bene oltre a prenderti lo sconto subito immediato diretto ti rilascerò un buono acquisto un buono sconto pari alla metà di quello che ha speso quindi se hai speso 100 euro io te ne lascerò 50 da utilizzare nel mese successivo su un altro ordine di 100 euro semplice no? tutto quello che ti sto dicendo è scritto in un regolamento ti lascio il link qui o sotto non lo so dove stai guardando questo video e ti do appuntamento a venerdì 29 e sabato 30 novembre per il nostro Black Friday e Saturday ciao 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 ciao